Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 16 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Duello d'amore a colpi di clava. Pensate a scene preistoriche, popolate da dinosauri, animali strani e personaggi brutali, vestiti di pelle e armati di clava. Così vi appare il partner, un troglodita pronto a colpire la vostra sensibilità con armi grezze e parole rozze. Causa la duplice opposizione di Marte e Urano alla Luna nel vostro segno, tutto vi urta e vi ferisce, litigate col mondo intero ma soprattutto con voi stessi. Smettetela di rimproverarvi errori passati, la clava dei sensi di colpa picchia più forte di quella impugnata dal minaccioso antenato. Per l'amore non è un buon periodo, molti errori compromettono il futuro. Coppie in crisi e rapporti frammentati, possibili anche separazioni, divorzi, allontanamenti, rotture clamorose. Difficoltà per i single che incontreranno molti ostacoli sulla loro strada. Non cercate oggi comprensione a aiuto ad amici e parenti, non vi capirebbero e sareste solo delusi. Cercate piuttosto di farcela con le vostre forze e non giudicate sulle apparenze. Oggi non siete disposte a tollerare molto gli altri, siete facilmente irritabili. Pensate positivo e datevi da fare su quel progetto a cui tenete tanto. Non abbiate timore di affrontare questioni spinose con il parkbr. Vedrete saprà capirvi. Un segreto rivelato ti darà vantaggio. Una persona del segno della Vergine ti sarà di grande aiuto. Luna favorevole per la carriera e per le competizioni. A tratti potresti sentirti ambizioso. Se dovete sostenere un colloquio per un lavoro abbiate cura di arrivare puntuali e ben preparati, potrebbe essere l'occasione giusta per voi. Oggi ad alcuni potrebbe essere proposto un lavoro part time o a termine. Malgrado conduciate uno stile di vita diverso da come vorreste se provate, a partire da oggi, ad apportare qualche correttivo potreste ottenere risultati impensabili di socializzazione e superare in buona parte lo stress che subite. Il vostro partner potrebbe tenervi sulle spine per quanto riguarda una decisione che deve prendere, non fatevi prendere dal panico e lasciate che il tempo faccia il suo corso e il suo lavoro. Urano e Giove sembrano proprio donarvi una nuova energia per assicurarvi alcuni successi, in effetti proprio oggi potrebbe iniziare un periodo nuovo denso di novità e ricco di opportunità. Se pensate di acquistare un nuovo cellulare, provate ad aspettare, potrebbe maturare qualche buona occasione nei prossimi giorni. Moderate le spese e cercate di risparmiare in questo periodo. Uno splendido sole si muove in aspetto positivo per voi. Si trova infatti nell'amico cancro. E voi continuate la giornata con un pizzico di entusiasmo e la serena fermezza del vostro carattere. Luna, Mercurio, Venere e Urano si trovano invece in angolatura astrologica difficile dai segni del leone e del toro. È possibile che qualche piccolo disturbo possa incrinare la vostra forma fisica. Controllate in particolare la salute dell'intestino e dell'apparato orogenitale, veri punti forti, deboli del vostro segno. Che giornata, urticanti e rancorosi voi, con il veleno dello scorpione già pronto nel codino per colpire il nemico. Difficile però farlo con due soggetti focosi ed esplosivi come Marte e Urano in combutta in toro all'opposizione. Problema condiviso una folle gelosia e una fortissima incapacità di autocontrollo, quando vi parte la scheggia date di testa, ma provocando l'altro, che si tratti del partner, del socio, del rivale sportivo, oggi si arriva a litigare forte. Amore ed eros. Sentimenti romantici, ma idealizzando il partner finite per innamorarvi di qualcuno che non esiste, il vostro beniamato in realtà è un peperino che quando non si ritrova d'accordo con le vostre decisioni e i vostri principi protesta ad alta voce entrando platealmente in conflitto. Possibili plateali rotture in coppia, in società, dove la guerra c'era permane e magari si allarga, dove non c'era esplode all'improvviso. La luna nel vostro segno vi illumina il cammino e anche se sentite il bisogno di programmare alcuni progetti da realizzare insieme al vostro amore, è forse adesso il caso di attendere e rinviarli. Una dissonanza di Plutone invita a valutare attentamente tutti gli elementi che costellano un'eventuale impresa coinvolgente la coppia. Tra qualche giorno la mente e il cuore più sgombri da dubbi e malumori, potranno far proseguire con decisione la marcia verso le mete che vi eravate prefissate. Lavoro e denaro Creatività superba, la vostra mente è una fucina di idee, tutte splendide, insolite, innovative, per questo vi scontrate praticamente con tutti, gli invidiosi, i pavidi, i tradizionalisti o semplicemente coloro che non sono ancora pronti per il rinnovamento degli ideali e dei costumi. Mutamenti ai vertici del luogo dove si svolge la vostra attività lavorativa non interessano la vostra collocazione all'interno dell'azienda. Se festeggiate il vostro compleanno dal 30 ottobre al 5 novembre dovrete tenere d'occhio quel che succede attorno a voi, Mercurio muove le acque e potrebbe riservarvi in attese svolte. Benessere. Stati infiammatori in agguato pronti a colpirvi, ma anche voi avete le vostre armi di combattimento, la musicoterapia, la cura con i colori o barili di acqua santa, occorrerebbe versarne una quantità pari alla Godaral. Peccato che nei magazzini non ce ne sia abbastanza. Denaro. Giocare la sorte all'otto? Con la Mercurio e Urano, entrambi dissonanti da Leone e Toro, non è un'ottima idea. Piuttosto attendete qualche giorno e diversificate le possibilità di successo, aggiungendo anche la schedina del totocalcio. Per lei, gelosia a causa di guai, accuse e ripicche reciproche, in pratica un processo alle intenzioni. Per lui, l'istinto vi dice che avete un rivale, magari proprio il socio ritenuto da sempre complice e affidabile. Prossimamente sui vostri schermi se ne vedranno delle belle. Colore delle emozioni, rosso ciliegia. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.